Musica Ed eccoci qui collegati con Arcese della Futura questa sera tutto troppo facile Si è andata bene vengono loro bassa classifica però il gioco è buono magari un po' l'età noi più giovani magari un po' più fiato abbiamo giocato bene ma ha sprecato tante occasioni secondo me perché potevamo fare più gol però alla fine il risultato è quello che conta Appunto questa sera forse essendo stata troppo facile non avete avuto modo magari di provare quello cui avete dato la partita Sì abbiamo gestito molto di più i cambi siamo una panchina lunga però il gruppo è unito ci piace giocare tutti quindi abbiamo dato spazio a tutti oggi magari potevamo provare qualcosa di più però alla fine ogni partita è una battaglia quindi ce la giochiamo sul campo Eccoci qui con Montin allenatore della Futura questa sera avete nettamente vinto la partita Sì questa sera abbiamo fatto stata una partita bella bella giocata bene che oggi ho potuto fare pure ho potuto far girare la squadra sono contento della prestazione dei ragazzi perché veniamo da tre partite in trasferta consecutive e oggi era importante tornare a vincere anche qui in casa Appunto la Roccaforte della Futura forse è proprio le partite in casa Ma noi guarda noi delle partite ce le giochiamo tutte sia in casa che in trasferta perché la mia squadra è una squadra molto equilibrata sa quello che deve fare in campo è normale che in casa dove noi giochiamo dove conosciamo bene il campo è normale che che sarà anche per noi è un vantaggio però anche se giochiamo in trasferta noi andiamo in campo per fare la nostra partita dopo si può vincere o si può perdere ma l'importante è che la mia squadra da quello che può dare ogni volta che scende in campo